Classifica cristallizzata nella cionica di pallacanestro. Quando manca una sola giornata al termine della stagione regolare, le gerarchie sono quasi definite. Grazie alla vittoria esterna contro la scuola di basket Lecce per 79-90, Canusium si assicura il primo posto in vista dei play-off. Ben quattro uomini in doppia cifra per la squadra di coach Ciociola, con Migliori e Murolo che infilano 21 punti a testa. Successi agevoli anche per le dirette inseguitrici. La Virtus Matera regola sempre in trasferta Francavilla 77-90, Castellaneta manda al tappeto Apricena 66-80 e la pallacanestro Molfetta batte Fasano tra le Muramiche con il risultato di 92-71. Saranno queste quattro squadre dunque a contendersi l'unico slot a disposizione per il prossimo campionato di Serie B interregionale nei play-off, in programma dal 28 aprile al meglio delle tre gare. Alle spalle del quartetto di testa invece vince solo il Barletta Basket, che grazie alla contemporanea sconfitta di Monteroni contro Altamura per 81-69, aggancia proprio la compagine Salentina al quinto posto con 24 punti. Nell'81 a 73 del Palaborgia contro Mesagne, Biancorossi trascinati da Caseres e Gambarrota, rispettivamente 21 punti e 18 punti. Verdetti tutti da scrivere intanto per quel che riguarda la permanenza in Cionica. La matematica non ha risparmiato il fanalino di Coda Apricena, ma la salvezza di Mola New Basket nella Serie B interregionale cancellerebbe i play-off per tutte le altre squadre.